Radio Roma Capitale, informazioni sulla città. La linea 3 che collega Valle Giulia a Trastevere è tornata ad essere tram da un capolinea all'altro senza più lo scambio a piramide con il bus 3B. E poi vi ricordiamo che lo sportello anagrafico decentrato di San Romano nel quarto municipio resterà chiuso fino al 22 agosto e resterà chiusa fino all'8 settembre anche la sede di Viale Moritti nel dodicesimo municipio. Come sempre 060606 o comune.roma.it